Care professoresse e cari professori, innanzitutto ben ritrovate, ben ritrovati e buon inizio di anno. Ricominciamo i nostri appuntamenti con ultimora parlando dell'intesa che è stata raggiunta lo scorso 20 dicembre dai ministri delle finanze dei paesi dell'Unione Europea sulla riforma del patto di stabilità e crescita che entrerà in vigore a partire da giugno. Ma che cosa cambia rispetto al passato? Ne parliamo nel nostro primo articolo. Sempre dall'Unione Europea arriva la notizia di un altro importante accordo raggiunto a fine dicembre su un tema davvero caldo e combattuto e cioè la gestione dei migranti e dei richiedenti asilo, materia questa presidiata dal regolamento di Dublino. Vediamo anche in questo caso quali sono le principali novità introdotte. Torniamo in Italia per parlare di una sentenza della Cassazione da molti salutata come storica. La sentenza riguarda la determinazione dell'assegno divorzile e va a risolvere l'incertezza sulla inclusione o meno del periodo di convivenza prematrimoniale nella valutazione dell'importo dell'assegno stesso. Raccontiamo tutto nel nostro terzo articolo. Ma ci occupiamo anche di una vicenda che ha tenuto banco durante le festività in ragione della notorietà dei suoi protagonisti e cioè l'affaire Ferragni-Balocco con la sanzione erogata dalla GCM per pratiche commerciali scorrette relativamente alla pubblicità di Pandori per scopi benefici. La vicenda ormai è nota di dominio pubblico ma quali sono le precise motivazioni portate dalla GCM per giustificare una sanzione che in totale aumenta a 1.400.000 euro? Per finire la Corte Costituzionale ha un nuovo presidente. Si tratta del professor Augusto Barbera e cogliamo quindi l'occasione per rispondere a due domande. Come viene scelto il presidente della Corte Costituzionale e quali sono le sue funzioni? Per questo mese è tutto. noi vi auguriamo un sereno rientro a scuola e ci diamo come sempre appuntamento fra altri 30 giorni.